Consegnati i lavori di una delle grandi opere incompiute di cui Gorizia aveva estremamente bisogno da molti anni. Il Comune ha consegnato le chiavi dei lavori del parcheggio multipiano di via Manzoni nel capoluogo Isontino. Prima opera del genere che darà una sistemata o quasi per il parcheggiare in centro città appunto a Gorizia. Consegnati i lavori del parcheggio multipiano di via Manzoni a Gorizia. Uno dei grandi progetti sbandierati da più amministrazioni comunali è giunto finalmente all'atto pratico. Poco più di 400 posti d'auto di cui 300 a rotazione che la ATI aggiudicataria del lavoro con il modello del project financing ovvero a totale carico dei privati che gestiranno in toto la struttura si è impegnata a costruire in poco più di un anno per poter dare al capoluogo Isontino un posto dove far parcheggiare molte auto in pieno centro. Signor Sindaco finisce una telenovela inizia una realtà. Sì, quando io sono diventato sindaco ho trovato un progetto preliminare che prevedeva un parcheggio di 5 piani fuori terra una cosa mostruosa, brutta a mio avviso, mi sono impuntato, ho fatto rifare il progetto il progetto è venuto fuori molto bello oggi, ci sono 3 piani fuori terra, 2 piani sottoterra il costo dell'opera è rimasto sostanzialmente invariato, come è rimasto invariato anche il numero di parcheggi oggi consegniamo all'impresa che dovrebbe realizzare l'opera entro il 30 gennaio del 2015 mi auguro che questo tempo sia notevolmente contratto e che finalmente Gorizia abbia un parcheggio degno della città funzionale a tutte le nuove aree pedonalizzate che abbiamo realizzato nel centro.